Se stai avendo problemi di lag su Fortnite è possibile aumentare gli fps, come puoi vedere io sto laggando quindi ho trovato una soluzione per aumentare gli fps intorno ai 180-200 fps. Quindi il programma che consiglio in questione è Nvidia Profile Inspector che c'è il link in descrizione quindi in questo caso se hai problemi con questo link basta che entri nel mio server Discord e ti mando direttamente io il pacchetto. Il pacchetto come puoi vedere questo qua è il pacchetto RAR tasto destro sopra winrar estrai in file in Nvidia quindi estrai file in Nvidia Profile Inspector ti uscirà la cartella con il programma all'interno quindi in questo caso il programma funziona 100% con le schede Nvidia con AMD bisogna testarlo invece con Intel non funziona proprio. Quindi andiamo così ad aprire il nostro programma in questo caso vai a scrivere qua sopra Fortnite si collegherà così al percorso file del tuo gioco scendi fino a giù vieni a trovare l'anti-allacing transparent multi sampling metti abilita enable quindi abilita così questo parametro anti-allacing transparent super semplice questo qua invece devi metterlo su 8 quindi 8 doppiamo replay in questo caso puoi testare il programma su Fortnite quindi se non ti piace come è venuta così la grafica puoi sempre impostare da 8 puoi mettere anche 30 ridurre sempre di più la grafica aumentando gli FPS. Se non ti piace questo modo di giocare su Fortnite usando questo programma puoi direttamente cliccare su questo logo di Nvidia quindi Restore Current Profile quindi ripristina il profilo di Fortnite quindi ripristina tutto e ritornerai così a giocare come prima. La grafica come 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 la punto 7500 stessa cosa anche con OpenGL una volta fatto fai applica una volta applicato tutte queste impostazioni non ti resta che andare a giocare a fortnite e invece nelle impostazioni di fortnite è possibile impostare così la modalità finestra finestra a schermo intero risoluzione metti la tua risoluzione io metto la 1920x1080 il v singolo devi disattivare se noti ti blocca gli fps limite frame rate metti quello illimitato modalità di rendering per non avere problemi di lag perché ammettendo il direct x 12 migliorerà così la qualità sulla grafica come hai visto all'inizio ha migliorato così fortnite però faccio veramente pochi fps quindi in questo caso tirino su direct x 11 scendiamo fino a giù fino a trovare così la sfocatura in movimento metti no parallassi interfaccia utente metti sì qualità grafica pre impostazioni qualità mettiamo ridotto anti leasing super risoluzione tsr mettiamolo su tsr team doppia a risoluzione 3d metti 50 ombre no illuminazione globale no riflessi no texture metti elevato effetti ridotto post processing metti elevato distanza visuale metti lontano e fai applica ecco la grafica avanzata per mostrare gli fps per vedere quanti fps fai su fortnite indicatori latenza per il ping quest'altro qua invece di nvidia reflex abbassa latenza più boost metti on più boost e fai applica poi andiamo direttamente su epic games nella nostra libreria andiamo su fortnite e vai sui tre puntini una volta fatto vai su opzioni e qui dobbiamo scaricare così varie cose la sceglie del direct x 12 toglila perché non ti servirà se vuoi aumentare gli fps quindi devi decidere o la qualità grafica oppure migliori prestazione quindi togli il shader direct x 12 scendiamo fino a giù fino a trovare la texture ad alta risoluzione togli questa qua da 20 gb prescarica le risorse trasmesse inserisci questa questa da 6 gb e basta e fai applica una volta fatto andiamo direttamente su alla ricerca qua quindi su circa vai a scrivere direttamente grafica quindi impostazioni grafica vai su sfoglia e inserisci così fortnite vai direttamente nel tuo disco vai su fortnite fortnite game binaries 1 64 ed ecco fortnite lancio il punto che si inserisci questo opzioni prestazioni elevate stessa cosa anche con epic games quindi vai su sfoglia vai a trovare così epic games programmi per 86 epic games epic games launcher punto ex e faccio aggiungi inserisco pure epic games prestazioni elevate e faccio salvo quindi se questo video è stato utilissimo come aumentare e migliorare così le prestazioni su fortnite riducendo il lag migliorando gli fps sul gioco iscriviti lascia like per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video ci sono altre guide su fortnite come aumentare gli fps risolvere altri problemi sul gioco quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao